E' stata una giornata totalmente dedicata alla prevenzione sanitaria gratuita con Lions in piazza, l'iniziativa che si è svolta al centro Arezzo Coop di Via Lamedola sabato 22 aprile. I Lions sono un'associazione che anche sul sociale sono molto presenti e i medici in piazza sono veramente un'esperienza che fa sì che l'operatività, l'esperienza, la professionalità di Lions possa essere a disposizione della popolazione in un momento in cui le spese mediche incidono pesantemente sui bilanci familiari. L'iniziativa nata dalla collaborazione tra i 4 Lions Club di Arezzo e il movimento giovanile del Leo Club ha infatti offerto alla cittadinanza la possibilità di sottoporsi ad una serie di screening e controlli tenuti da medici professionisti nei più svariati campi della medicina. Troviamo ortopedico, diabetologo, nutrizionista, cardiologo, medicina generale e altri che si sono resi disponibili per tutta la giornata a fare degli screening e delle visite gratuite. Si trattano di visite chiaramente di prima informazione in quanto vengono fatte o in ambulanza o in camper dotati di attrezzature e dove il medico fa una visita al paziente e rilascia anche un foglio del risultato dello screening. Continua ad essere evidente alla città di Arezzo non solo come la presenza dei club di servizio quindi della organizzazione di professionisti all'interno di un contesto privato che però ha una forte pulsione pubblica produce momenti di in questo caso prevenzione ma quindi di utilità sociale. Quindi funziona quella formula di coesione sociale che tiene insieme pubblico e privato e che vede nel privato non una dimensione altra ma una dimensione vera e propria dello sviluppo di un contenimento, di un contenuto culturale di tutti e di ciascuno.